Posso fare una premessa prima? Intanto vi volevo ringraziare il direttore generale, il direttore sportivo e il presidente, non solo per la scelta ovviamente, ma mi allaccio a quello che diceva il presidente che parlava di famiglia, in questi giorni ho avuto modo di parlare sia con il direttore generale che con il direttore sportivo di questo aspetto, fino anche adesso, poco fa che eravamo a pranzo insieme e quello che ha detto il presidente io l'ho riscontrato dal primo giorno e non l'ho nascosto a nessuno e non lo nascondo neanche a voi che è stata una cosa determinante poi finita la scelta perché dal primo giorno quando ci siamo incontrati ho respirato un clima che mi è piaciuto, un clima dove ci si poteva parlare e confrontare tra persone educate, serie, genuine, questo mi è piaciuto molto, mi fa piacere che il presidente l'abbia sottolineato perché è stata la prima cosa che ho respirato dal primo incontro. Prego. Mi dicevo tre domande in un'altra, prima già presso per il posto, mi chiedo che cosa l'ha convinta ad accettare questa panchina dall'inizio, perché per lei è la prima panchina dall'inizio della stagione, quali sono state le motivazioni? La seconda è il tipo di condizioni, eventualmente lei ha chiesto alla termana per applicare quello che può essere il suo gioco, abbiamo visto lo suo curriculum, non 4, 3, 1, 2. Terza, siamo abituati da sei anni a fermo a vedere tutti gli allenatori con sciarpe, tutte eccetera, lei continuerebbe a vederlo in travatta. Allora, concludo brevemente allacciatemi alla prima, sicuramente la sensazione che ho avuto a pelle è stata determinante, io mi sono sempre fidato di questo mio lato, di percepire le persone che ho intorno e l'ambiente che ho intorno, ci ho quasi sempre preso, speriamo di averci preso anche stavolta, ma non ho dubbi che da quel punto di vista la sensazione che ho avuto sarà quella. Per quanto riguarda il resto, io non sono, poi mi conoscerete meglio con calma e più avanti, ma come persona, non parlo di allenatore qui, non sono uno a cui piace porre condizioni, perché secondo me è una cosa che non ha senso, a me piace condividere, piace poter parlare, piace poter anche discutere tra persone intelligenti e persone a moto. Porre condizioni può significare tanto nel mestiere che faccio, ma anche niente, perché poi porre condizioni a giugno quando è tutto fermo e tutto immobile ha senso fino a un certo punto, perché chiunque può prometterti la luna e poi non dartela come viceversa. Quindi poi il direttore lo confermerà, non ho posto a nessun tipo di condizione, se non la speranza, ma ripeto, non mi sbaglierò, di poter avere un dialogo costante, giornaliero, ma soprattutto diretto, chiaro, senza troppe sotterfugie. Per quanto riguarda la terza, adesso vediamo come sarà la tuta di rappresentanza, se sarà bella andrò in tuta, se no andrò in situa anche così non è un problema. Era una curiosità, una battuta. Una cosa che mi piace, a prescindere, poi vediamo, questo si deciderà a dire la battuta insieme alla società. Allora, parto da un presupposto semplice, che un allenatore per poi essere definito tale nel corso degli anni, e quindi dimostrare insomma che sta a fare quel tipo di mestiere bene, deve esserlo per forza un leader, perché poi alla fine deve essere in grado di gestire un gruppo di lavoro, e per gruppo di lavoro intendo tante componenti, perché ridurlo ai 20-25 giocatori più lo staff è poco, per gruppo di lavoro intendo i dirigenti, per gruppo di lavoro intendo anche voi, perché poi alla fine la stampa, i tifosi, tutto il contesto fa parte del gruppo di lavoro di un allenatore, e alla lunga può andarti bene un anno, due anni, se poi dopo dieci anni ancora fai allenatore, evidentemente sei un leader, sei in grado di esserlo, perché altrimenti non riesci a gestire bene tutto quello che c'è intorno ad una squadra. Io per prima cosa cercherò, e credo su quello di essere in grado di farlo, altrimenti non proverei neanche a fare questo mestiere, credo di essere una persona in grado di leggere il confronto sul dialogo, di essere una persona sensibile, intelligente, che è in grado di capire, non dico tutte le situazioni, ma gran parte delle situazioni, delle dinamiche che ci sono e che ci saranno quotidianamente, e non parlo prettamente solo di calcio, di aspetti tecnici che sono sì importanti, ma poi alla fine non si può limitare tutto la gestione dell'allenatore a quello, e quindi sicuramente per prima cosa, visto che sono all'inizio di un percorso, farò leva e cercherò di far leva su questo mio lato caratteriale, perché credo che poi tutto il resto si possa costruire e si possa migliorare, soprattutto al giorno d'oggi ci sono talmente tanti mezzi per aggiornarsi, migliorare, andare avanti e progredire, che quella strada è più facile, ma se prima alla base non hai la capacità di gestire, capire, ascoltare, scegliere, decidere nella maniera giusta, diventa difficile poi mettere insieme tutto il resto. Sì, ho avuto modo, anche se non moltissimo, perché c'è stato poco tempo e perché magari non avevo conoscenze dirette, almeno negli ultimi anni di questo ambiente, però con tutte le persone che ho parlato, di questo sono contentissimo, mi hanno confermato la famosa sensazione che avevo avuto il primo giorno che sono stato a pranzo con i direttori, e questo mi ha dato ancora più fiducia, perché pur fidandomi giustamente molto delle mie sensazioni, poi sentirlo dire da qualche giocatore, da qualche addetto ai lavori, da qualche altra persona che ruota intorno al mondo e confermare che la sensazione che aveva avuto è riscontrata un po' da tutto quello che è intorno alla fermana, sicuramente è stata una cosa molto piacevole. Questa è una società dei pochi soldi, ma sicuri, e questo danno, c'è una grande certezza, che non sono le condizioni, non le norme, questo è stato sufficiente per convincere, quindi c'è una progettualità basata su della serietà, anche se magari qui non si rinconterà. Per come la vedo io, poi ripeto, io sono molto realista e realistico, è stato non sufficiente, è stato fondamentale, perché poi ti ripeto, quando parli a giugno, uso una battuta, quando si parla a giugno sotto l'ombrellone, poi tutti vogliono vincere, fare, giocare bene, far giocare i giovani, poi dopo passano i giorni, passano i mesi e c'è un altro aspetto che è molto più reale, è molto più pratico, no? Quell'aspetto lì penso di averlo percepito da subito e questo per me è stato fondamentale, soprattutto perché sono all'inizio. però qui al di là del Presidente, se il Presidente lo può confermare, gli altri sono tutti con i piedi per terra, il Presidente invece spera sempre di arrivare ai punti. La domanda è l'ha già fatta il collega, no? Qui lei lavorerà con una società che ha un budget, se non è il più basso, probabilmente è tra i più passi dell'intera categoria della Lega Pro. Budget gestito da questi due signori che lei ha piangono in maniera sempre molto professionale, tant'è che da quel che noi sappiamo, se qualcuno fa qualcosa di diverso, se non può smentire, la permane è in regola in tutto il percorso. Lei queste cose le sa? Ovvio. E quindi credo che i due direttori, al di là del Presidente, vi chiederanno la salvezza tra quattro. Ovvio che queste cose le so, come ovvio che il Presidente fa bene a viaggiare un po' più in alto di tutti gli altri, perché è normale, fa parte del ruolo e poi ci vuole sempre una figura che cerchi di spingere tutti, oltre anche quelle che sono le reali possibilità, quindi ben ben che il Presidente e i giocatori devono sempre pensare di poter fare di più anche di quello che possono fare, poi dopo ci penserà l'allenatore, i dirigenti e tutto il resto che saranno più pragmatici. Ovvio, queste sono tutte le condizioni che so, adesso poi nello specifico avremo tempo e modo di parlare di mille altri aspetti, ma è chiaro, è tutto chiaro, non c'è problema da quel punto di vista. Mister, per chiudere un po' il tuo percorso che hai terminato, la prima esperienza in me, la prima missione condiuta, ti aspettavi di poter rimanere lì per continuare il tuo percorso? L'ultima domanda per chiudere quello che è stato. Allora, mi aspettavo, io per natura sono una persona che si aspetta poco dagli altri, no, quindi non sono quello che poi ci rimane male se gli altri non gli concedono qualcosa. È indubbio che per come era andata e per come era maturato, pensavo e penso tuttora che mi sarei meritato una riconferma, però finisce lì dal momento in cui la scelta è stata fatta diversa, ripeto, non mi aspetto niente da nessuno, quindi va bene così, ho guardato avanti dal giorno dopo e siamo qui oggi a parlare di altro.